Passiamo alla prossima esibizione e si torna nuovamente nel mondo dei videogames direttamente dal mio videogioco preferito all'attuale momento, Hoverwatch. Lei è Irene e interpreta Mercy Magical Girl. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scusa, scusa Devo. I need healing. Vieni, vieni. Bene, la vostra giuria ci fa fare il giro. Giriamo, giriamo. Mercy, mercy, gira. Scusate dove vanno, scusateci. Bene, Luca sparisce e io posso tornare alla nostra Mercy. Elsa, alza il piede. Ok, domande per la nostra Mercy? Volevamo chiederti se puoi scendere e fare un giro qua davanti a noi. Perfetto, vai. Perfetto, vai.